Ogni fiore ha un destino, ogni fiore ha un significato. Fin da quando ero bambina ho sempre saputo leggere i fiori, ho saputo ascoltare quello che mi dicevano e vedere nel futuro attraverso di loro. È lo scrigno della regina di Scozia, contiene tutti i più grandi segreti della casa reale e una profezia di Nostradamus che minaccia il destino della monarchia. Hanno già ucciso mio marito, vogliono lo scrigno e ora prenderanno anche me. Un grande romanzo di Elisabeth Lupas Newton Compton Editori